Le zebri rugby portano all'Aquila il grande rugby internazionale. Sarà un sabato di sport e di festa per la città dell'Aquila, un gesto anche di solidarietà per la popolazione aquilana a nove anni dal terremoto da parte di una squadra che ha sede a Parma. Vigili in città per i giocatori e lo staff che durante la mattinata si sono allenati agli ordini dei preparatori nella palestra cittadinattiva che da sempre ospita eventi molto importanti legati allo sport a 360 gradi. Questa settimana è una settimana classica di fine stagione perché mancano solo tre partite alla fine. Con il viaggio all'Aquila non siamo riusciti a lavorare tantissimo con grossi volumi. Abbiamo lavorato sulla forza veloce, siamo qui ospiti nell'attiva centro fitness. È molto importante per noi essere qui perché si respira già da ieri un'area di una città piena di rugby. È un piacere per noi essere qua e ci stiamo preparando al meglio per la partita di domani. L'Aquila del resto è un tempio del rugby. Vedo comunque la rinascita a nove anni e il centro pieno di giovani la sera è una bellissima cosa. Proprio quello che ci aspettiamo, anzi, ci hanno già accolto ieri da Vezzano e questi ieri sera in città qua da noi in modo molto caldo. Il vecchio rugby dell'Aquila ha scritto la storia e speriamo lo rifaccia con noi insieme da questi giorni. L'ho vista anche peggio purtroppo, la vedo rinascere con tanti giovani in centro città, mi piace molto.